Ciao ragazzi, so quanto è difficile in questo momento dover stare chiusi in casa. Il sistema sanitario pubblico è veramente in crisi, lo vediamo dalle notizie, lo vediamo da quello che succede in Italia e soprattutto in Lombardia tutti i giorni. Capisco che per uno sportivo, un runners, non muoversi è dura, ma oggi dobbiamo imporci di stare a casa. Dobbiamo trovare quella forza, quella determinazione che usiamo nelle nostre gare. E anche per ridurre al minimo il rischio di eventuali incidenti e quindi la necessità di dover essere soccorsi. E andare così ad ossofra a caricare gli ospedali che già sono in ginocchio. Dobbiamo farlo anche per tutti quegli infermieri, quei medici che ogni giorno vanno in guerra in ospedale. Dobbiamo assolutamente fare la nostra parte, non stiamo perdendo nulla, ci rifaremo sicuramente in seguito con delle corse, delle passeggiate, facciamo tutti la nostra parte e stiamo a casa.